Occhio perchè le blanck va a botto mi sa Va a botto con Lucian Ma non ce l'hanno Lucian Eh ma le blanck guarda, guarda bene Secondo me fa tipo, è un trucco Ma che cazzo, ma non hanno la di Kerry loro Sono più troll di noi Bene, allora di cosa ci preoccupiamo Non pushare, attento, la sita solo proprio al limite Non prenderti la skill che fa danno ad aria Sennò entra in aria No, hai preso quell'abilità che con gli auto attack fai danno ad aria Oh mio dio, vabbè se l'hai già presa L'ho presa, l'ho presa Infatti io dovrei fare flash, ignite, tutte le spell Sussinio, super C'è una tentazione di farlo Eccolo, eccolo Via Merda mi ha esenerato Fuggi Hai fatto ignite, non so perché Farle paura Farle paura Hai preso tu il first blood Sì Come cazzo hai fatto? Boh Con la Q E' gubato Lo volete? Non è che lo volevo dire, è mio di diritto Ma se ti dai ma non sono morti Troia, non è giusto Non ha senso Dai, 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 dai Vieni, vieni, zac, caro zac Io mi sono accassato i coglioni di questo No, volevo fare cosa cazzone, non l'ho fatto I danni al cervello dell'autismo Sono provati scientificamente Sono meravissimi La torre sta veramente facendo dei pezzi Sta torre E' ancora lì Guarda La torre La torre Ma la tripla Ma che cazzo? Lo prendo te? Lo prendo io che c'è la cdr Sì No, lo prendo io che non c'è più mana Ok No, aspetta perché sono uscita Luce Scappa 5 secondi alla ultimate Arriva la mia Vai Li uccidiamo? Sì, certo No Ulta cazzo Non aveva paura di urtare Non aveva paura Volevo fare Io sto dicendo Che non si può uscita a comandare Io sto dicendo Che c'è ancora la torre top Ok, quando vuoi Ulta Su chi vuoi? Su Zack Possibilmente Su Zack e le blank Vai Non so, non la vedo bene La ulti La vedo bruttissima Arrivo Però la ulti sulle blank Sì, sì, certo Vai Vai Dai, però Venite Tu devi trovare In modo di urtare qualcuno Le blank Pur di uccidere Xinzhao Io mi sono quasi fatto Le blank da solo Però è sopravvissuta Vai Vai Freccia Bella lì Oh, ha finito le blank Quindi, sì Aspetto le blank Perchè tanto Ultare Eccola le blank Oh, ha finito 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 le blank